perché siamo qui perché così che deve essere no intendo perché siamo qui nella foresta la natura ti fa bene ti dona energia gli alberi le piante l'erba l'aria questo è quello di cui hai bisogno hai dormito per più di cento anni lo sai sì lo so prenditi un po di tempo per abituarti a questa nuova vita ho stampato questi vestiti del 2008 in modo che tu potessi abituarti con qualcosa che ti è familiare ti piace l'hai stampato sì con una stampante 3d ma con lo stile del 2008 puoi stampare i vestiti certo può stampare tutto scusami sto ricevendo una chiamata pronto ciao come stai sto bene mi sono risvegliata stamattina nella foresta il mio risveglio sì è così che lo chiamiamo noi le persone che hanno risveglio della criogenizzazione hanno bisogno di molta attenzione all'inizio li possiamo inserire sono così carine ci devo andare scusami ho ricevuto una chiamata ma dov'è il tuo cellulare il mio cellulare a vedere il mio sdc il mio dispositivo di comunicazione qui nel mio orecchio ma avete comunicato con i gesti nell'aria e cose così sono le mie lenti a contatto lenti a contatto credo che nel 2008 le avevate no certo ebbene queste lenti possono mostrarti delle immagini come vecchi monitor con l'unica eccezione che ho un muo intorno ai miei occhi e posso muovere tutte le immagini con il resto della mia mente lo vedrai puoi averlo è costoso costoso cosa intendi intendo intendo che costa tanti soldi ah ok no no sono molte le cose che non ti posso dire sul nostro mondo ma noi non utilizziamo più soldi in questa cultura su questo pianeta non usate più i soldi no quindi potete avere tutto quello che volete sì ma noi non vogliamo più di quello di cui abbiamo bisogno e non necessito più di dieci lenti a contatto funziona nella stessa maniera della vostra vecchia biblioteca eccetto che possiamo prendere tutto quello che vogliamo e di cui abbiamo bisogno non preoccuparti lo amerai il futuro noi siamo una grande famiglia su questo pianeta noi siamo un po' di cui abbiamo bisogno di dire che ci sono un po' di cui abbiamo bisogno di dire che c'è Grazie a tutti.